Musica Ben trovati con le breaking news del pomeriggio Il pomeriggio ha cercato di ingannare i fidanzieri del comando provinciale di Arezzo fingendo di avere tre dosi di stupefacente per uso personale L'obiettivo era quello di cavarsela con una segnalazione al prefetto Ma i militari hanno approfondito le indagini, gli hanno scoperto ben 40 dosi di cocaida nascoste all'interno del suo marsupio Più oltre 2000 euro, frutto di proventi dello spaccio E' accaduto a Montevarchi, un giovane è stato prima denunciato dai carabinieri della compagnia di San Giovanni E successivamente, visto che sono state trovate ulteriori 43 dosi, il giovane è stato arrestato e tradotto in carcere ad Arezzo 8 posizioni in meno rispetto all'anno scorso Il dato sulla qualità della vita riguardante Arezzo e la sua provincia Pubblicato questa mattina dal sole, 24 ore bene l'export male il numero degli infortuni sul lavoro E infine cerimonia semplice ma significativa questa mattina nel piccolo parco Che da oggi sarà dedicato alla memoria di Guido Guidotti Mori L'ex podestà prima, prefetto poi Aretino che si ribellò alle leggi razziali del 1938 E tutto con le breaking del poveriggio, appuntamento alle prossime edizioni